Quasi due mesi di lavoro e le idee di Tudor sono sempre più chiare. Il tecnico croato ha avuto modo di studiare la rosa, di conoscere da vicino i suoi giocatori e di proiettarsi quindi almeno in parte già verso la prossima stagione. Al netto di addi legati a offerte irrinunciabili, il gruppo dei big è interamente confermato, mentre da valutare ci sono le posizioni di alcune seconde linee. Allo stesso tempo gli acquisti da fare dovrebbero essere almeno 5 o 6. Partendo dalla difesa, pur con le difficoltà di adattamento al nuovo modulo, è destinato a rimanere romagnoli, così come Patrick e Gila. Su Casale ci saranno da fare alcune riflessioni dopo un anno complesso, mentre due sono i colpi, senza uscite, da fare per completare il reparto. Tante sono invece le incognite a centrocampo, e non solo per il destino imbilico dei due titolari. Gendusi riflette sul futuro per il feeling non eccellente con Tudor. Kamada invece per quello non eccellente col campionato italiano, prima dell'arrivo del tecnico croato. Vesino ha tutte le caratteristiche necessarie. Meno adatti alle idee di calcio del tecnico biancoceleste sono Rovella e Cataldi. Entrambi però non dovrebbero partire. Sulle fasce quello più saldo al suo posto è Marusic, seguito da Lazzari e poi più indietro da Isai e Pellegrini. Infine in attacco è certo del posto Castellanos, così come immobile al netto di sue decisioni diverse e per ora scongiurate. Stesso riscorso per Zaccagni, mentre per Luisa Alberto al momento non ci sono offerte. Isaksen è indietro, ma la società ci punta. Felipe Anderson è pronto a legarsi al Palmeiras. Per Pedro ci sarà invece da sedersi a un tavolo e parlare per eventualmente trovare un accordo di addio.